Amici del Bar del Besbolo, ottavo inning, Bologna 0, 1 eliminato, Nettuno 2, Paolino Ambrosino colpisce la Navalli, arriva sul sacchetto di prima, palla a terra del lanciatore arriva sul seconda, battuta sul interbase e nell'azione viene eliminato il battitore, ma Paolino raggiunge il sacchetto di terza base, quindi adesso corridore in terza base, Alessandro Grimaudo nel box di battuta e Bruffa è stato eliminato. Vediamo se l'eulogio della cruz che è arrivato in prossimità dei 100 lanci ce la farà ad uscire in denne anche da questo inning. Partita tiratissima, stupenda è stata la prestazione fino adesso di eulogio della cruz, senza dubbio la migliore da quando indossa la casacca del Nettuno, palla sempre a terra, forse è il caso di sostituire eulogio, è sceso anche di velocità Paolo, prima che compromettiamo la partita, abbiamo Rodney Rodriguez che si sta scaldando nel bullpen, importantissimo questo out, strike, come siete a casa Paolo? 2-2 ci dice lo speaker Paolo Noro, Salutiamo anche Enrica, salutiamo Livio, salutiamo Fabio, salutiamo Tulio, è valida di Grimaudo e il Bologna segna il primo punto. Bologna 1 Forse andava cambiato anche prima Ci raggiunge anche il mio socio Massimo Massimo siamo in diretta Eh non so, stavo fuori, stavo guardando Andava forse cambiato prima Ma a parte prima Prima? No Sulla prima base, quel coppia sulla prima base, purtroppo doveva essere out Cambio sul punto di rinanzo dell'alertura, Rodney Rodriguez, si seguisce eulogio e le corrisse gilti Grazie a tutti Grazie Grazie